Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 206. Oggi passiamo alla lezione numero 186 che l'idea a cui si riferisce è la seguente. La salvezza del mondo dipende da me. Quindi iniziamo la lezione dicendo io non sono un corpo, io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. La salvezza del mondo dipende da me. Mi sono stati affidati i doni di Dio perché io sono suo figlio ed io darò i suoi doni dove egli ha inteso che venissero dati. Io non sono un corpo, io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. Allora prima di concludere questa lezione vi ricordo che dovremmo ripassare su quest'idea. Quindi la salvezza del mondo dipende da me almeno 15 minuti al mattino e 15 la sera. E ogni ora ricordarci qual è la lezione che stiamo passando. vi consiglio di scrivere su un bigliettino. La salvezza del mondo dipende da me. E anche queste due idee centrali che inizia e conclude dicendo che io non sono un corpo, io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. Scriverlo su un pezzettino di carta e portarselo dietro o scriverlo sul cellulare o dove vi pare. Perché è importante che noi almeno gli diamo un'occhiata ogni ora, qualsiasi cosa stiamo facendo. Perché è importante che noi sappiamo chi siamo. Ecco perché il corso continua a fare. è questo ripasso continuo delle lezioni. Un'idea alla volta. Vedete che ogni ripasso ha un modo diverso. Quindi queste lezioni, come avete già visto, inizia con quest'idea e finisce con quest'idea. perché dobbiamo capire, dobbiamo fare nostre, capire il senso di quello che dice la lezione. Ok? Allora, io mi fermo qui. Vi aspetto domani con la prossima lezione e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti voi! Ciao a tutti!